Onorevoli colleghi, accanto a questa attività, alla nostra agenda, prenderà a corpo il confronto tra le forze parlamentari sulla legge elettorale e la necessaria armonizzazione delle norme tra Camera e Senato. Un confronto nel quale il Governo, voglio ribadirlo, come ho avuto occasione già di dire negli incontri con le diverse delegazioni, un confronto nel quale il Governo non sarà l'attore protagonista. Spetta a voi, onorevoli colleghi, la responsabilità di promuovere e trovare intese efficaci. Certo, il Governo non starà alla finestra, cercherà di accompagnare, di facilitare e anche di sollecitare questo confronto. La sollecitudine non deriva dalle valutazioni sulla durata dell'esecutivo, deriva dalla consapevolezza istituzionale del fatto che il nostro sistema parlamentare ha bisogno di regole elettorali certe e pienamente applicabili e ne ha bisogno con urgenze.